Uno spettacolo intenso, commovente, capace di far riflettere su un tema tanto importante quanto delicato, accogliere la vita che sta per nascere. Domenica 5 febbraio, giornata per la vita, nella chiesa Sant'Arcangelo Gremita di Gente, è stato presentato al pubblico lo spettacolo teatrale Semplicemente Vivere, per la regia di Marco Florio, per festeggiare i dieci anni di attività del Centro di Aiuto alla Vita di Fano, a servizio di ogni donna che si trova in difficoltà a portare avanti una gravidanza indesiderata o difficile. La presidente Pamela Salucci ha illustrato all'inizio della serata obiettivi e finalità del Centro di Aiuto alla Vita e ha ringraziato quanti in questi dieci anni hanno collaborato con la struttura e l'hanno vista crescere. Presente allo spettacolo anche il Vescovo Armando, quando sono arrivato in questa diocesi il Centro di Aiuto alla Vita era già in fase di gestazione, io ho cercato di accompagnarlo con discrezione. La vita proseguita al Vescovo è una questione di tutti, va accudita, coltivata, difesa e rispettata. Una vita nascente deve essere protetta e incoraggiata. Presente in sala Michela Napolitano, dal cui libro autobiografico 20 notti per un'alba, è stato tratto proprio lo spettacolo Semplicemente Vivere, una storia di grande coraggio unino all'amore e alla vita. Durante la serata è stato presentato un piccolo volume dal titolo Vivere, che oltre ad illustrare la storia del Centro di Aiuto alla Vita, racchiude grandi storie e testimonianze di coraggio e d'accoglienza.